Allora, sì, sono molto soddisfatta di tutto quello che abbiamo fatto. E non solo appunto sto continuando a usarlo su di me, ma lo uso in studio con i miei pazienti che sono molto felici. Anzi, ho proprio un paio di persone che vogliono proprio venire solo in studio per fare qigong e nient'altro. E poi ho appena finito ieri sera il mio primo corso, perché ho organizzato una sorta di corso promozionale di otto lezioni, che sono finite ieri sera. E anche le persone che sono venute erano molto, molto, molto soddisfatte. Infatti hanno detto, ma ci rivediamo a gennaio? Ma certo che ci rivediamo! Quindi si ricrea un nuovo corso, quindi non più tra le gatte così promozionali di otto lezioni, ma lo porteremo un po' più avanti. Dopo appunto all'interno di questo corso ho messo sia dei movimenti della shibashi che dei cinque animali. Più che altro proprio ideutici dei cinque animali, essendo una forma un po' più complessa, però erano molto, molto, molto soddisfatti di il signore. Ok, allora ti dico anche brevemente, certo, come utilizzavo il qigong anche prima di incontrarci, come sai, nel mio metodo superpostural, Bioenergy, dove utilizzavo soprattutto lo yu jin jin e il baduan jin, ho iniziato a mettere in superpostural alcuni movimenti di shibashi, anche se non sequenze complete, molto i propedeutici, intersecandoli sempre con gli esercizi di ginnastica posturale, ispirati alla fansois messier del metodo di reeducazione posturale globale, come ho sempre fatto, così come anche alcuni naturalmente esercizi e propedeutici dei cinque animali, con grande, grande, grande entusiasmo da parte dei miei allievi o pazienti, come li vogliamo chiamare, sia in termini, e ti dico, sia in termini emozionali che in termini fisici, parlo proprio dell'ampiezza del movimento, di articolazioni, in particolar modo di shibashi della spalla, ma non solo, perché ho trovato anche giocamento comunque nelle problematiche della colonna, tutte le problematiche della colonna, quindi nell'aiuto nel grinding, nel radicamento e nello srotolamento, quindi nell'aiuto appunto a ritrovare una perfetta biomeccanica della colonna vertebrale. e in termini emozionali tantissimo, e anzi in questo devo dire che ho tante cose in mente che vorrei proprio parlarne con tutte.